Buongiorno a tutti e bentornati in questo Vlogmas! Quest'anno sta per volgere al termine e direi che è il caso di fare un riassunto di quali sono stati i miei prodotti preferiti per quanto riguarda la skin care di quest'anno. Sono dei prodotti che mi sento di consigliarvi, che sono adatti tendenzialmente a tutti i tipi di pelle, quindi non stiamo parlando di niente di troppo specifico, però appunto ci tenevo a fare un riassunto di quali sono stati i prodotti che non ho mollato mai, a prescindere dal momento dell'anno in cui li ho conosciuti, in cui ho iniziato ad utilizzarli, ma soprattutto che penso e vorrei continuare ad utilizzare anche l'anno prossimo. Quindi vi faccio questo leggerissimo riassunto. Ho cercato di prendere prodotti per tutti gli step della skin care, o comunque quasi tutti, in maniera che ci sia appunto il mio preferito per ogni step. Non sono prodotti che utilizzo necessariamente sempre, ma sono semplicemente quelle cose che mi hanno accompagnata per tanto tempo, che ho preso, ripreso, rimollato, ricominciato in alcuni momenti, alcune volte li ho sospesi, ma che in generale appunto mi hanno sempre dato grossissime soddisfazioni. Tra l'altro questo qua è stato anche un anno di estremo contatto con voi. Sono stata molto, ma molto vicina con voi che mi seguite, abbiamo parlato un sacco, abbiamo discusso un sacco anche privatamente di tanti prodotti, mi avete parlato delle vostre impressioni, avete acquistato dei prodotti che io amo e che utilizzo, e mi avete anche detto come vi siete trovati e tutto quanto. Quindi anche sulla base un po' delle vostre recensioni, io ho cercato di rielaborare appunto quello che utilizzo, di provare qualcosa che vi incuriosiva, e ho scoperto diverse chicchette anche grazie a voi. Quindi è bello che questa community serva sia a me che a voi per quanto riguarda la recensione dei prodotti di skin care. Comunque, iniziamo subito col video. Non credo di andare in ordine, perché ho tutto qua il mucchio sparso, quindi andrò a prendere dei prodotti che mi capitano e ve ne parlerò. Allora, il primissimo prodotto che mi viene sotto mano è un prodotto di The Ordinary. Il prodotto di The Ordinary in questione sono gli aminoacidi più B5. Comunque, questo qua l'ho acquistato un pomeriggio, completamente a caso, perché sono andata da Douglas, che come sapete adesso da un po' è uno dei rivenditori fisici di The Ordinary insieme alla Rinascente, se non sbaglio. E se non ho capito male, anche H&M ha messo un corner con alcuni prodotti The Ordinary. Comunque, ero andata per riacquistare l'acido ialuronico e l'argireline. Non c'era l'acido ialuronico, perché va a ruba, e quindi ho deciso di acquistare questo qua. Amminoacidi più B5 sostanzialmente è una formula che aiuta la vostra pelle a mantenersi sana, a mantenersi bella tonica, rimpolpata e a proteggere la barriera idrolipidica. Questa formula qui in particolare è una formula leggermente oleosa. Non vi deve assolutamente spaventare, perché non è un olio, non unge, però io preferisco utilizzarlo la sera, tra i miei sieri, che utilizzo la sera nella routine, e la crema, proprio per la sua corposità e la sua, insomma, la base della formula. E mi ci sono trovata molto 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 bene, ha aiutato la mia pelle a ritrovare proprio luminosità, a ritrovare ricompattezza, ha affinato la grana, ha eliminato un po' di pori dilatati. Quindi non è un prodotto mirato per questo genere di cose, perché non è un acido, non è un vitamina C, non è uno schiarente, non è nulla, ma semplicemente va a risanare e rinvigorire un pochettino la pelle. Quindi integrato in una routine, magari dove avete anche tanti attivi, è un perfetto equilibrante per andare a ribilanciare tutti gli step. Secondo prodotto che mi capita sotto mano, CeraVe. CeraVe, al di là di tutto, è un brand che io mi sono sempre portata dietro. Quest'anno in particolare ho avuto modo di provare tanti altri prodotti, come ad esempio il contornocchi, la cream to foam. Ho scoperto anche la linea CeraVe, che è quella con acido salicilico, che è fenomenale soprattutto per il corpo, sia il cleanser che la lozione, per chi magari soffre di acne sul corpo, acne sulla schiena, acne sul fondo schiena o le macchie conseguenti all'acne. In particolare però vi parlo di questo qua, che è il detergente idratante. Questa formula qua è una formula che io utilizzo al mattino, perché non fa schiuma, sembra quasi che non lavi in realtà. Però io che normalmente la mattina alterno non fare completamente detersione, quindi sciacquare semplicemente il viso con dell'acqua a temperatura ambiente e poi procedere con la skin care, è un'ottima soluzione invece per fare la detersione utilizzando un qualcosa che vada a rinforzare la vostra barriera, perché contiene i tre ceramidi essenziali, ma senza andare a dare e togliere nulla alla pelle. Quindi è quasi come se non stesse mettendo niente, però riuscite ad eliminare quello che è magari il leggero accumulo di sebo che avete avuto durante la notte ed eliminare appunto i prodotti della skin care precedente, quindi lui. Fra l'altro è un prodotto che avevo utilizzato anche l'anno scorso, nel 2020, quando dovevo curare la mia pelle a seguito di una overesfoliazione, quindi avevo la barriera idrolipidica un po' di struttarella. Per di più il mio vaio multifollicolare mi stava dando degli sfoghi di natura acneica un po' dappertutto e quindi la mattina avevo iniziato ad utilizzare questo detergente qua appunto per rinforzarmi un pochettino e mi è piaciuto un sacco. È anche un prodotto adatto a tutte le età, lo consiglio anche a pelli molto 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 giovani che vogliono iniziare con una skin care, una detersione senza essere troppo aggressivi. Poi abbiamo questa, questa qui è una lozione, l'avevo presa al contrario, è una lozione energizzante che tra l'altro ho iniziato ad utilizzare molto tardi perché mi è arrivata circa un mesetto fa ed è una lozione bioplasma di Fabri Marine. Questo qua è uno spray, fra l'altro io di solito ho sempre utilizzato i tonici in maniera classica quindi col dischetto, se sono esfolianti, comunque con acidi e tutto oppure direttamente sul forma della mano e poi tamponati se sono dei prodotti più tranquilli. Questa qua la potete nebulizzare. Ha un nebulizzatore molto 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 buono, nel senso che non vi spara nulla in faccia, non fa gocce, non cola non rimangono accumuli ma è estremamente delicato e fra l'altro questa è un'altra di quelle lozioni, di quei prodotti in generale che puntano alla salute generale della pelle, a rinforzare la barriera, a mantenere la pelle in uno stato di salute e di compattezza ma non contiene particolari attivi che vanno in contrasto con altri. Involontariamente sto andando, sto facendo un escalation verso gli attivi perché adesso ho deciso mentre faccio il video che vi parlerò prima di tutti quelli che sono i protettivi. Quindi questa è ottima fra l'altro sia come lozione, quindi come tonico da utilizzare tra la detersione e i vostri sieri sia anche come mist, quindi ve la potete portare in giro e nebulizzarla come idratazione anche sopra il makeup perché assolutamente non va ad intaccare nulla. Sempre parlando di pelle in buono stato, come sheet mask vincono loro? Questa qua è una scatolina che io ho reperito su YesStyle, il brand è Apieu e sono delle maschere alte nero, ci sono sia alte nero che alte verde, io mi sono trovata stra bene con queste qua alte nero. Sono freschissime, hanno un rapporto qualità-prezzo ottimo ma soprattutto all'interno ce ne sono 33 quindi considerando che comunque una sheet mask non va fatta effettivamente tutti i giorni nonostante qua ci sia scritto daily perché aprite la scatola, ci sono le pinzette, ne tirate su una non c'è ulteriore packaging eccetera eccetera ma comunque considerando di farne una più o meno o due alla settimana vi durano veramente tantissimo. e appunto avete la scatola intera, dentro sono molto 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 pregne di siero e vi basta shakerarla un attimo per averle di nuovo tutte super bagnate e super immediatamente accessibili quindi queste come sheet mask vincitrici. Il siero al mugwort ovvero l'artemisia in realtà questo ingrediente qua l'ho ritrovato anche in altri prodotti come ad esempio la essence di I'm From e anche il tonico all'artemisia di One Thing, tutti i prodotti reperibili su YesStyle questo qua in particolare è un siero, un ampoule quindi molto concentrato ed è super adatto alla pelle grassa infatti non appena io avevo iniziato a vedere dei miglioramenti per quanto riguarda la mia pelle che si ungeva tanto la pelle grassa e tutto quanto ho iniziato ad utilizzarlo e ho visto subito dei risultati ottimi quello che fa è semplicemente non ovviamente far andare via i brufoli ma aiutare la vostra pelle a produrre meno sebo, ad opacizzarsi naturalmente e questa cosa va a regolare appunto la produzione di sebo che quindi automaticamente diminuisce anche l'insorgere di brufoli, punti neri e piccole imperfezioni quindi anche questa qua consigliatissima sempre nella schiera dei non attivi ma efficaci purito centella unshanted adesso questa qua è la mini size perché io ho finito due tubi di quella full size poi ho smesso di utilizzarla semplicemente perché ho avuto necessità di provare altre creme ma ho ricomprato comunque la mini perché a magli estremi almeno ne ho un pochettino e poi perché avevo piacere ad avere la confezione in mano appunto per parlarvene e per continuare a farvela vedere la centella asiatica è un ingrediente protettivo, calmante, lenitivo e idratante va benissimo per tutti i tipi di pelle questa qua è una crema super neutra e soprattutto non unge affatto e stra stra leggera quindi la consiglio sia messa magari più abbondantemente durante la notte come ultimo step della skin care se dovete lenire, calmare dei rossori e aiutare la pelle grassa sempre a sebo regolarizzarsi sia come crema giorno perché appunto essendo super leggera e lievemente mattificante non vi dà quella sensazione di pesantezza sul viso e potete tenerla tutto il giorno esattamente l'opposto ma sempre tra i preferiti abbiamo questo qua l'olio 100% vitamina E di Pavaglione Cosmetics questo è anche un prodottino che ho scoperto da poco tra l'altro è piccolissimo la confezione costa solo 9,50€ e potete sceglierla se metterla da sola o se mischiarla alle vostre creme questo olietto qua, allora intanto la vitamina E è sempre un ingrediente assolutamente neutro protettivo, va d'accordo con tutto, rinforzante per la barriera e la consistenza di questo prodotto qua è molto simile a un miele estremamente liquido quindi ne bastano poche gocce è molto corposo da stendere, molto spesso va utilizzato tassativamente secondo me di sera per la skincare serale io normalmente lo metto come ultimo 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 step quindi anche dopo la crema e mi va a creare questo film appiccicaticcio con cui a me piace tanto andare a dormire e la mattina vi svegliate radiosi e rimpolpati è stupendo e appunto sempre perché sono essendo una persona che prova tanti prodotti e ha comunque un'esfoliazione chimica regolare mi cerco di circondare sempre di questi surplus protettivi nutrienti, rimpolpanti, belli carichi perché mi piace mantenere un certo equilibrio sulla pelle ultimo ma non per importanza fra i prodotti neutri il contornocchi di Kiehl's so che questo contornocchi costa un pochettino ma per quanto mi riguarda ne vale veramente la pena io vi faccio vedere intanto questa confezione qua che è quella grande all'interno ci sono 28 ml di prodotto c'è anche quella piccolina nel caso voleste provarla ma dura veramente un avuto questa qua ce l'ho da un anno ed è così e spero di riuscire a finirla prima che scada perché mi dispiacerebbe veramente tanto buttarla è un prodotto all'avocado quindi nutriente per il contornocchi forse poco idratante ma al di sotto normalmente io vado a mettere un altro siero quindi un siero contornocchi che può essere caffeina acido ialuronico possono essere i prodotti che utilizzo per il viso sotto forma di sieri applicati anche sul contornocchi fin quando all'interno non ci sono acidi o non c'è retinolo dopodiché vado ad applicare questa qua in maniera molto abbondante la sera come maschera e la mattina mi sveglio subito con un contornocchi bello nutrito bello morbido e mi ha aiutato parecchio sia a diminuire questa problematica che io ho di solchi non appena ho un po' di stanchezza insomma dormo un po' meno bevo un po' meno acqua e così via sia anche di piccole rughette che si formano appunto sotto gli occhi quindi super approvato passiamo invece adesso alla zona degli attivi per quanto riguarda gli attivi il primo che ovviamente non potevo non includere e chi mi segue lo sa la Vita B3 di Tiam questo prodotto qua quest'anno l'avete acquistato in tantissimi e abbiamo creato tipo una setta della Vita B3 e è una cosa che mi fa super piacere perché è un prodotto che a me ha rivoltato la vita completamente e la faccio ovviamente e sono molto contenta che tanti di voi l'abbiano apprezzato questa formula io l'ho scoperta per caso perché me l'ha inviata YesStyle l'anno scorso verso Natale e non l'ho mai aperta perché ero convinta che non mi servisse non avevo neanche guardato bene cosa fosse se devo essere sincera un bel giorno a seguito delle mie svariate cure post acne post pelle a tendenza acneica mi erano rimasti quei fastidiosissimi puntini bianchi soprattutto sulla zona mandibolare sul mento quelli che in realtà non si vedono ma poi quando magari vi truccate o vi toccate li sentite in 3D se cercate di schiacciarli insomma esce qualcosa di rigido sapete se avete avuto dei punti bianchi e soprattutto fate fatica a schiacciarli quindi tante volte se vi ci accanite vi rimane la macchia avevo assolutamente necessità di eliminare questa cosa ora non che non sapessi che la niacinamide aiuta con questa problematica ma parlavo con un'amica che usa tanta niacinamide e mi fa perché non ci metti la niacinamide e io dicevo perché non ce la metto perché non ce l'ho pensandoci sono andata nel mio repertorio skin care a cercare dove ci fosse della niacinamide e ho trovato lei l'ho applicata nel giro di una settimana mi ha piallato tutto quanto andando a leggere la formula c'è effettivamente niacinamide al 10% e alfa arbutin al 2% sono già entrambi all'interno logicamente questa formula qua sostanzialmente quello che fa è oltre a proteggere la barriera schiarire uniformare l'incarnato ha anche questo potere di piallare i vostri punti bianchi in maniera secondo me fenomenale naturalmente so che ha funzionato su tanti qualcuno non ha riscontrato effettivamente i miei stessi risultati perché logicamente purtroppo i prodotti skin care sono sempre abbastanza soggettivi come resa però devo ammettere che è un prodotto che mi ha seriamente aiutata io avevo iniziato ad utilizzarlo solo sulla mandibola mattina e sera nel momento clou della problematica dopodiché l'ho ridotto soltanto alla sera per poi andare ad utilizzarlo saltuariamente magari su tutto il viso magari solo su zone che si tendono ad ungere di più quindi sull'attì o semplicemente sul mento ma non l'ho mai mollato e questo se non sbaglio è il terzo che acquisto altra bombetta la Regena C30 di Face Theory questa qui è una vitamina C non è in acqua ma è in propanediolo che è un conservante quindi significa che questa formula qua non è acquosa ma è leggermente appiccicaticcia vischiosa provo a farvela vedere direttamente dalla confezione fa questo rumore perché è molto è molto corposa e appiccicosiccia e poi vedete che non lo so se si può percepire dal video quello che vi sto facendo vedere però se voi vi mettete una goccia sul viso non cola non crolla tipo acido di aluronico ma rimane sempre tipo consistenza miele forse un po' meno quando la stendete dovete massaggiarla parecchio ma nonostante questo si assorbe quasi completamente e non unge per niente la consiglierei soprattutto per quelle pelli che hanno delle macchioline da sistemare da curare come antiossidante per chi soffre particolarmente di pori dilatati e per chi vuole comunque uniformare l'incarnato e migliorare un pochettino la luminosità del viso in generale mi trovo molto 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 bene fra l'altro è una formula con vitamina C stabilizzata quindi potete eventualmente anche mischiarla con ghiacinamide dopodiché come ultimo step della skin care abbiamo questa crema solare qua che è la UVH Daily di Vichy con questa mi ci trovo strabene per due motivi il mio motivo è che assolutamente non unge rimane super super leggera la potete utilizzare anche abbondantemente anche riapplicare più volte sul viso ovviamente se non siete truccati perché altrimenti sformati tutto quanto va agitata prima dell'applicazione e sentite è molto molto liquida quindi spiegazioni in più per cui si assorbe così facilmente la seconda cosa che mi piace un sacco è che è super delicata e adatta sotto il make up perché non fa assolutamente peeling quindi sopra potete metterci quello che vi pare sotto anche e lei fa quello che deve sempre di vici scala la classifica anche norma derma trattamento spot questo secondo me tra tutti quelli che ho provato quindi neogen il piccolino quello rosa poi ho provato la linea dry zit di acnemi ho provato tanti cerottini tra cui quelli di neogen che sono anche molto efficaci questo è quello che mi elimina il brufolo più velocemente naturalmente non fa miracoli quindi non è che lo mettete sul brufolo e automaticamente quello sparisce ma normalmente nel giro di tre applicazioni quindi due barra tre giorni non c'è assolutamente più niente perché con la prima applicazione vi rimuove l'infiammazione con la seconda applicazione inizia a far scendere proprio il brufolo quindi lo vedete più piatto più tranquillo non avete motivazione di toccarlo e con la terza applicazione elimina anche il rossore definitivo non vi resta la macchia e vi aiuta soprattutto a evitare appunto di toccarli di avere la voglia di schiacciarli e tutto quanto potete applicarlo sia la mattina che la sera ma lo consiglio la sera perché se lo mettete abbondante agisce meglio secondo me come primo step quindi sulla pelle asciutta e poi con il resto della skin care ci girate intorno in modo che lui possa fare quello che deve completamente senza fastidio senza disturbo e non viene schermato magari da prodotti che mettete prima abbiamo quasi finito due prodotti labbra Paula's Choice questo prodotto qua è uscito a settembre e Chica Plast versione labbra il balsamo questi sono la vita sono fantastici questo qua è un lip booster a base di aceto di aluronico e peptidi che sono due degli ingredienti fondamentali per mantenere le vostre labbra belle rimpolpate evitare che vi si formino rughette che vi si secchino soprattutto in inverno e lo potete utilizzare sia di giorno insomma come burro cacao normalmente sia anche di sera come maschera labbra io lo metto normalmente la mattina come primissima applicazione vi faccio vedere che come è fatto come vedete è leggermente liquido appiccicoso quindi non è effettivamente un burro cacao però sulle labbra rimane traslucido e ha un bellissimo effetto dura e appunto messo la mattina potete poi continuare con un burro cacao regolare per mantenere l'idratazione durante il giorno per la sera è una bomba perché vi fa da maschera di solito la notte sopra vado ad applicarci questo qua che è il prodottino Cicaplast di La Roche Posay questo qua è protettivo per la barriera quindi soprattutto se soffrite di labbra secche di labbra che tendono un po' a sgonfiarsi a svuotarsi specialmente appunto con il freddo questa è una super manna io normalmente lo metto anche al di fuori quindi sulla pelle di contorno proprio per aiutare a riparare la mia barriera e a mantenerla bella sana bella forte e soprattutto trattenere tutti i liquidi quindi l'acido ialuronico contenuto nella maschera precedente ed eventuali altri stieri tutti belli al di sotto che possono fare la loro azione durante la notte poi il mascara per l'allungamento delle ciglia di Airbus di questo qua ve ne ho già parlato su di me funziona benissimo me ne accorgo in due modi io lo uso quasi tutte le sere il primo effetto che ho riscontrato è un effettivo è un'effettiva crescita più sana più forte e quindi più duratura delle mie ciglia che hanno tempo a crescere quindi diventano più lunghe la seconda cosa che ho notato è che io qua tendo ad avere un buchetto dove ci sono un paio di ciglia che ogni tanto spariscono e io ho un buco utilizzando questo prodotto appunto che rinforza e mantiene le ciglia in buona salute probabilmente in quella zona lì dove non lo so sarà un punto in cui sono più soggetta a una pelle poco sana il ciglio riesce comunque a crescere e mi si automaticamente tappa questo buco per finire in bellezza prodotti capelli lo shampoo altemaccia e scrub di pomelo questo qua è uno shampoo con all'interno dei pallini di scrub è altemaccia quindi a parte quello ha un odore che è veramente celestiale è idratante nonostante sia comunque altè e nonostante sia comunque uno scrub non va utilizzato a ogni shampoo io normalmente lo alterno agli altri miei shampoo lo utilizzo circa una volta alla settimana e aiuta proprio ad eliminare il seguo in eccesso e a pulire in profondità l'altra cosa che mi piace un sacco è che non secca quindi assolutamente potete anche evitare di mettere il balsamo dopo tante volte io utilizzo lui non metto balsamo asciugo i capelli poi li pettino utilizzo un olio comunque un qualcosa di nutriente di stricante disciplinante dopo e faccio la piega quindi anche lui è super top naturalmente dalla posizione in cui mi trovo ci sono un sacco di altri prodotti che mi sono piaciuti tantissimo di cui vi vorrei parlare però non volevo mettere troppa carne al fuoco questi qua sono i migliori nel senso che quando sono lì in confusione davanti ai miei prodotti magari voglio integrarne qualcuno fisso nella mia skin care oppure sono indecisa su che crema solare utilizzare ma voglio essere sicura di essere confortevole tutto il giorno oppure devo andare a prendere qualche prodotto che non uso tanto e tutto vado sempre su questi fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi ne utilizzate già qualcuno come vi trovate e soprattutto vorrei sapere quali sono stati i vostri must have di quest'anno perché sempre potrebbe essere carino nei commenti andare a leggere scoprire dei nuovi prodotti con cui vi siete trovati super super bene io vi saluto e ci vediamo nel vlogmas di domani ciao